Moda, musica e danza a Chieti per una città che si conferma una fucina di Miss e di future stiliste. Si è tenuto sotto i portici di Corso Maruccino a Chieti Autumn Fashion, l'evento moda organizzato dall'agenzia Four Events di Camillo del Romano, che ha l'esclusiva regionale per il concorso di Miss Mondo. Sotto i riflettori hanno sfilato i capi d'abbigliamento di alcuni negozi teatini, ma anche le incantevoli creazioni disegnate e realizzate dalle alunne del Corso di Moda del Liceo Artistico Nicola da Guardiagrele, guidato dalla dirigente Paola Di Renzo. Coordinate dalle professoresse Anna Core, Marilena Pretrocco e Manuela De Cinque, le aspiranti stiliste danno dato vita ad abiti da sogno che hanno colorato un pomeriggio all'insegna della moda e della bellezza. Un debutto infatti non solo per le aspiranti stiliste ma anche per le aspiranti indossatrici, per alcune studentesse dell'artistico è stata infatti la prima sfilata della vita e potrebbe non essere l'ultima se si pensa che da Chieti la Four Events Agency ha visto proclamate Miss già altre ragazze, come nel caso della conduttrice della sfilata Anna Bruna Di Orio, che ha partecipato alcuni anni fa a Miss Italia e oggi è un volto noto di programmi mediaset come Donna Avventura e Ricette all'Italiana. Tra un'uscita e l'altra di abiti ci sono stati anche momenti musicali con le esibizioni di Giovani Promesse Canore e delle ballerine della scuola di danza Dimensione Danza di Chieti, diretta da Paolo Larovere. E tra le ballerine c'è già un'altra Miss, è Lorenza Mammarella che alle selezioni nazionali ha vinto la fascia di Miss Mondo Cinema.